Entro Ferragosto inizierà la canterizzazione per procedere all'abbattimento del ponte Belvedere, che sarà poi ricostruito. A 12 anni dal sisma, una delle infrastrutture focali per la viabilità cittadina sarà avviata al rifacimento. Era una grandissima sfida perché ho preso in mano questo progetto circa due anni fa, però l'amministrazione ci teneva a dimostrare che poteva essere possibile realizzare una grande opera anche in tempi stretti e anche senza avere preventivamente le coperture per la realizzazione della stessa. L'impegno di tutti noi è stato massimo e adesso speriamo che entro il mese di agosto il ponte verrà abbattuto e inizierà immediatamente la ricostruzione del nuovo ponte. Il ponte, che sarà realizzato da un raggruppamento di imprese formato da due ditte aquilane, prevede una forma strallata con gli impalcati retti da piloni, appunto gli stralli. Questa scelta consentirà di non dover toccare le abitazioni sottostanti evitando gli abbattimenti. Sono due ditte aquilane molto molto serie che hanno compreso immediatamente anche l'importanza dell'opera strategica per quanto riguarda il futuro della nostra città e sono convintissimo che faranno uno splendido lavoro e regaleranno alla nostra città un ponte più bello di quello di prima. Per gli abitanti del palazzo posizionato sotto alla campata del ponte, conosciuto come Civico 29, è stata trovata una soluzione abitativa per il tempo dei lavori nel progetto case, con le bollette a carico del comune. Come una sorta di piccolo ristoro per il grande disagio che gli procureremo nei mesi in cui dovrà essere ricostruito il ponte.